Coppia scompare nel nulla a Sant'Anna, si tratta di due conigi e il trei che erano ospiti presso parenti, sono usciti per recarsi al parco di via Pistelloni ma poi non sono più rientrati. Bancomat aperto con la fiamma ossidrica, il colpo messo a segno alla filiale del Monte dei Paschi a zone sulla via Pesciatina. Lo sport crisi lucchese, Baldini in bilico, solo nelle prossime ore la società rossonera prenderà una decisione sul destino dell'allenatore, Favarin e Morgia i possibili sostituti. Super Sciapi e il Biareggio va, una doppietta dello scatenato centravanti bianconero permette alle Zebre di superare 2-0 il Sansepolcro. Agi dà record alla Lucca Marathon, il forte atleta marocchino domina e si impone in 2 ore 14 minuti e 37 secondi, nuovo record della corsa davanti a Calcaterra e Carbone. Buonasera, ben trovati a questa nuova edizione del TGNO. In apertura parliamo delle ricerche che sono andate avanti per tutta la giornata nella zona di Sant'Anna. Ricerche finalizzate al ritrovamento, finora senza esito però, di due coniugi eritrei che sono scomparsi nel nulla sabato mattina. Si erano recati per una passeggiata al parco di via Pistelloni, ma di loro non si sa più niente. Ricerche in corso a Sant'Anna e zone limitrofe per la scomparsa di una coppia di coniugi originari dell'Eritrea. Lui 50 anni, disabile in carrozzina, la moglie di 41 anni. Non fanno parte dei profughi arrivati negli ultimi mesi. Secondo le prime informazioni, i due sarebbero arrivati in Italia tramite conoscenti e alloggiavano da parenti in via De Gasperi. Motivo del loro arrivo in Italia sarebbero proprio le cure mediche a cui deve sottoporsi l'uomo. Sabato, come spesso accadeva, sono usciti per recarsi al parco tra via Pistelloni e via Del Poggetto per trascorrere qualche ora all'aria aperta. Sono arrivati qui ma poi di loro non si è saputo più nulla. I parenti hanno dato l'allarme in serata. Le ricerche sono quindi scattate nella notte per proseguire nelle ore successive con campo base proprio al parco dove erano solito recarsi. Le perlustrazioni si sono spinte fino alla vicina zona del fiume. Tra le ipotesi più probabili c'è quella dell'allontanamento volontario. Sembra infatti che sabato mattina, contrariamente al solito, i due avessero portato con loro tutti i medicinali di cui ha bisogno il cinquantenne, più una coperta e altro materiale, come se stessero prevedendo di non fare rientro a casa. Ovviamente però non si esclude nessuna altra ipotesi e le ricerche continueranno anche nelle prossime ore. Ecco quindi i coniugi scomparsi sarebbero stati ospiti di parenti a Sant'Anna e non del centro parrocchiale come invece era immerso in un primo momento. I vigili del fuoco di Lucca sono mobilitati dal tardo pomeriggio anche per la ricerca di un'altra persona. Si tratta di un uomo che si è perso sui monti pisani nella zona di Sant'Allago. La persona in questione ha telefonato con il cellulare ai vigili del fuoco per chiedere aiuto, ma non ha saputo dare la propria esatta localizzazione a causa dell'oscurità. Le ricerche sono in corso. Mattinata di disagi per la circolazione automobilistica tra Lucca e Porcari per consentire il passaggio dei partecipanti della Lucca Marathon. Diverse le strade e gli incroci presidiati dalle forze dell'ordine a Lucca e dintorni. Con le immagini qui siamo a Porta Elisa che era il punto di ingresso in centro storico per i concorrenti provenienti da Viale Castracani e diretti verso il traguardo di via Vittorio Veneto. Il passaggio dei concorrenti lungo il percorso si è protratto fino al primo pomeriggio e conseguentemente anche le limitazioni al traffico. Ci spostiamo a Capannori per un nuovo furto con scasso ai danni di una banca. Ancora un colpo ai danni di un istituto bancario in Lucchesia. Stavolta i ladri hanno assaltato il bancomat del Monte dei Paschi sulla via Pesciatina al semaforo di Izone. La banda è entrata in azione sabato notte. Un colpo ben studiato. Impossibile sradicare il bancomat che si trova al primo piano. Pericoloso tentare di farlo saltare in aria. Allora i malviventi hanno deciso di entrare all'interno dell'istituto bancario e per farlo hanno pensato di passare da un ingresso laterale allo scopo di eludere il più possibile le telecamere di sicurezza. Hanno aperto la porta usando la fiamma ossidrica e forzandola successivamente. Una volta all'interno hanno di nuovo usato la fiamma ossidrica per forzare il retro dello sportello automatico. Nel frattempo è scattato l'allarme ma i ladri sono stati velocissimi. Hanno asportato il denaro dall'interno e poi sono riusciti a dileguarsi prima dell'arrivo delle guardie giurate e dei carabinieri. I militari stanno adesso conducendo le indagini per risalire ai responsabili del colpo. Nei giorni scorsi erano state tentate due rapine ai danni di istituti bancari, una delle quali sventata dalla polizia. Due settimane fa c'era invece stato l'assalto riuscito al Bancomat della Cassa di Risparmio di Lucca a Ponte San Pietro. Due proteste dei cittadini a Lucca. La prima raffica di proteste arriva dalla zona di Via Nottolini a San Concordio per gli improvvisi blackout di energia elettrica che si stanno verificando da circa tre giorni. I residenti hanno avvertito l'Enel che ogni volta ripristina la corrente ma il giorno successivo il blackout si ripete anche in ore serali con immaginabili disagi per i cittadini che adesso chiedono che venga posto rimedio a questa situazione. La seconda raffica di proteste arriva invece da alcuni residenti del quartiere Bastardo in centro storico a Lucca perché a causa dei comics non possono più parcheggiare negli stalli gialli di via Bacchettoni dove è stato messo il divieto di sosta. Inoltre uno stand interrompe il transito della strada all'altezza della vecchia palestra provocando l'ingolfamento del traffico. Ci spostiamo adesso a Viareggio per un torneo, un memorial organizzato dai Vigili del Fuoco. Si è conclusa con la vittoria dei Vigili del Fuoco di massa che hanno superato quelli di Lucca a Viareggio con il punteggio di 3 a 2, l'undicesima edizione delle memorie al Mario Guidi, torneo di calcetta 5 riservato agli over 30 che si è disputato sui campi del centro sportivo Martini in via Filzi all'ex campo d'avviazione. La manifestazione è stata organizzata dal clan dei Vigili del Fuoco, dall'Axi, dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, sezione di Lucca, in ricordo di Mario Guidi, capo di staccamento dei Vigili del Fuoco di Viareggio e capo guardia benemeritissimo della Misericordia, come lo ricorda Giuseppe Bonuccelli che è tra gli organizzatori. È un piacere ogni anno ritrovarci, ritrovarci con dei vecchi amici per un momento di sport e di aggregazione, undicesimo Memorial Mario Guidi per ricordare un grande personaggio per noi Vigili del Fuoco, a lunghi anni capo di staccamento Vigili del Fuoco di Viareggio e ha fatto anche tanto tanto per la Misericordia, quindi nel volontariato e nel sociale, un esempio veramente da imitare. Quattro le formazioni che hanno preso parte, Vigili del Fuoco di Lucca, Viareggio, Pisa, Massa Carrare, una formazione in rappresentanza delle Forze dell'Ordine che si è classificata al terzo posto. Presenta le premiazioni anche l'assessore alla sicurezza del Comune di Viareggio, Maurizio Manzo, ex questore. L'amministrazione di Viareggio è vicino a queste iniziative, in particolare poi un'iniziativa come questa che ricorda prima un grande Vigile del Fuoco e poi l'iniziativa del devolvere il ricavato per l'acquisto di un defibrillatore che oggi come oggi è dimostrato statisticamente che ha salvato tante vite umane. Nel corso della premiazione è stato consegnato anche un assegno di 500 Euro all'associazione Roberto Pardini che promuove la diffusione dei defibrillatori sul territorio versilesi in rappresentanza di Roberto Banchieri che è il Presidente. Vogliamo ringraziare i Vigili del Fuoco, l'Axi per questa iniziativa e con questi fondi a cui ci vengono devoluti, chiaramente noi li utilizzeremo per l'acquisto dei defibrillatori. Tra i premi consegnati anche quello alla memoria di Federico Battistini. Chiudiamo con una notizia di spettacolo, reduci dai successi di X-Factor e dalla vittoria nell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Le Donatella, sabato sera, sono state ospiti a Lucca, al ristorante La Perla per poi recarsi all'appuntamento alla discoteca Hub dove si sono esibite e sono rimaste a disposizione per foto e autografi per i fans. È tutto per la prima parte della TG, adesso la pubblicità è subito dopo. Torniamo con lo sport.